In questa squadra per come giochiamo 3-5-2 sono una mezzala, quindi una mezzala sia a destra, ho giocato anche a sinistra, però il ruolo principale è quello. L'ho vissuto l'anno scorso questa situazione dove devi giocare per salvarti e quindi ogni partita è alla morte, quindi io sono pronto a giocare alla morte. Io lì ho giocato spesso e comunque una volta che ti integri bene con la squadra poi tutti gli 11 diventano dei punti di riferimento, quindi sicuramente anche qui voglio ritagliarmi il mio spazio e dare un apporto importante alla squadra. Dalla partita di sabato secondo me abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo messo molta più intensità di loro, non abbiamo rischiato niente. Quello che mi è sembrato è che dopo l'1-1 siamo un po' usciti con la testa e anche tra noi ce lo siamo detti che comunque bisogna rimanere sempre concentrati.